Musica Bentornati al consueto appuntamento con le notizie dal Consiglio regionale. Recuperare immobili abbandonati da almeno 5 anni, favorire iniziative di rigenerazione anche di interi quartieri, trasformare aree degradate prevedendo spazi verdi, servizi e infrastrutture. Sono tra i contenuti della nuova legge approvata a maggioranza dal Consiglio regionale che ha l'obiettivo di migliorare la vivibilità urbana e rurale mettendo in campo incentivi per i privati che intendono rimettere a nuovo case ed edifici agricoli faticenti. Secondo i dati del Politecnico, in Lombardia esistono 3.393 aree di smesse distribuite in 650 comuni. Quasi mille si trovano a Milano e provincia, seguita da Brescia e Mantova. 914 invece sono i siti da bonificare, quasi la metà dei quali nella città metropolitana di Milano e 188 solo nel capoluogo. Subito dopo Milano troviamo Varese e Bergamo. Ancora pochi giorni per visitare la mostra dedicata a Leonardo da Vinci e allestita allo spazio eventi di Palazzo Pirelli. Vediamo. È aperta fino a martedì 3 dicembre la mostra che il Consiglio regionale della Lombardia ha dedicato ai 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Allo spazio eventi di Palazzo Pirelli, 45 opere selezionate dalla permanente di Milano per raccontare l'interpretazione contemporanea del genio rinascimentale. Pitture, sculture e opere che mischiano stili diversi, tutti accomunati dalla stessa passione creativa e dallo stesso amore per l'espressione artistica. Perché, come ha sottolineato il presidente Fermi all'apertura della mostra, ingegno, capacità di creazione e immaginazione sono parte dell'ascito di Leonardo che continuano a dimorare nel DNA degli italiani. Un tributo alla grande mente del genio Vinciano che non solo produsse invenzione, ma riuscì anche ad immaginare un mondo diverso in un connubio perfetto tra uomo e macchine. Questa era l'ultima notizia, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi ringraziamo per averci seguito.